All'interno di Clean Ladies, la manifestazione organizzata da Fedro con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è arrivata a Giusy Marchetta a presentare Principesse, un libro che insomma smonta moltissimi degli stereotipi con i quali siamo tutte cresciute. Di che cosa parla questo libro e qual è la sua intenzione principale? L'intenzione principale quando ho iniziato a scrivere il libro era quello di uccidere lo stereotipo della principessa, questa sorta di modello con cui tutte quante le bambine, io sono nata nell'82, quindi degli anni anche 90 si sono confrontate crescendo, che è un modello pervasivo che ci dice che dobbiamo essere magre, belle e dobbiamo essere così per attirare un principe. Quindi l'idea principale era quella di uccidere questo stereotipo, poi nel corso della ricerca fatta, lavorando tra quelli che erano gli stereotipi nati dalle principesse delle fiabe, delle principesse Disney e poi anche di quelli che erano i modelli femminili della televisione degli anni 90, insomma mi sono ritrovata a riscoprire anche una sorta di affetto per questo personaggio della principessa perché volevo capire anche perché ci colpiva tanto e quali erano i suoi segreti. Il problema dello stereotipo è sempre che è qualcosa di monolitico, invece le persone hanno le sfumature, quindi riconquistare le nostre sfumature significa riprenderci una libertà di essere come siamo e quindi anche di distruggere lo stereotipo ma di salvare la persona che c'è sotto. Il prossimo appuntamento letterario di Klimts Ladies, sempre alla Galleria Ricciodi alle 18.30, sarà con Francesca Manfredi il 19 luglio.